Lenzolla? Lenzolla? Daniele sembra che sta feruto al cesto. Susantilli, mostraci nel luogo di vocali! Na! Si attacchio. Ma davo facciamo un tristissimo. Ah 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 shit Mato a dire come piace lo scroto Illavidello Intanto la sua papetta Sembra proprio una mezza perchéità Ma che cosa! Ehi Gagchio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti